16 spettacoli per un cartellone che abbraccia ogni settore, dal ballo al teatro alla musica classica a quella contemporanea. Il Teatro Carlo Gesualdo di Avellino finalmente alza il sipario per la nuova stagione 2022-2023. Si parte il 13 novembre con Vecchioni e si conclude il 7 maggio con il pianista Stefano Bollani. Per la prima volta dopo la pandemia il Gesualdo si avvia la gestione propria del Massimo Avellinese. La gestione deve essere della comunità, deve essere comunale e con questa grande iniziativa abbiamo anche raggiunto questo obiettivo, ci siamo riappropriati del governo dei processi anche al Teatro Gesualdo. È una stagione che considerando costi energetici di gestione, sicurezza, vigile del fuoco e chiaramente il cachet degli artisti credo che si aggiri intorno ai 500-600 mila euro. Il direttore artistico Enrico Provenzano ha annunciato anche le novità per gli abbonamenti. Le gallerie credo che siamo sui 16 euro a spettacolo quindi sicuramente molto conveniente proprio perché vogliamo andare incontro, viviamo una situazione abbastanza difficile e puntiamo sugli abbonamenti. Sicuramente i contenuti che offriamo quest'anno come lo scorso anno sono caratterizzati da una grande qualità e molti di questi spettacoli sono solo qui al Gesualdo ad Avellino.